Ciao a tutti da Giussi, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi andiamo a fare un doppio unboxing, ossia doppio colpo di karate. Andiamo a dare il colpo di karate a due uova. Intanto ne approfitto per ringraziarvi e per invitarvi a chi non è iscritto e ovviamente si vuole iscrivere, di iscriversi, di commentare, di lasciare un like e di attivare la campanellina per non perdersi i prossimi colpi di karate e non solo. Allora ragazze, oggi andiamo a spacchettare, cioè a dare il colpo di karate al Galak. Se devo dire la verità, io ho già un colpo di karate al Galak, l'ho già dato e l'ho già mangiato perché la cioccolata bianca l'ho mangiata mentre quella fondente è al latte e sto facendo dei dolci con quella lì. Allora, questo è il Galak particolare quest'anno, è uscita questa versione, è una nuvità. È il cioccolato bianco, vabbè, ma il cioccolato della Galak è bianco per eccellenza, con pezzetti di wafer con le sorprese di plouf. È un uovo senza glutine, è prodotto dall'anistè, come sappiamo, ed è da 230 grammi. L'altra novità, io quest'uovo non l'avevo mai acquistato, neanche nella versione classica, sempre se l'hanno fatto. Allora, questo qua è il Kit Kat Esther Breck. È una novità anche lui perché anche lui contiene dei pezzetti di wafer nel guscio. Qua. Contiene un Kit Kat Bunny di cioccolato senza glutine, quindi immagino che c'è un Kit Kat all'interno o immagino un'altra cosa che adesso vi faccio vedere. Questo qua, anche questo fa parte dell'anistè, l'anistè scade ad agosto del 2023, ok. Sono 219 grammi barra 230 grammi, quindi ci sono 11 grammi di surprise. È scritto qua. Allora, l'ho preso su Amazon e mi hanno dato questo. Credo che sia questo il Kit Kat, ecco. Però Amazon, io non posso fare tutti questi break qua. C'è un break di Pasqua qua, della Nestlé Kit Kat, quindi carino il coniglietto, però raga, io già l'ho visto. Scade il primo gennaio del 2024. Questo me lo tengo per, cioè non lo apro, lo tengo per, cioè se non lo apri, per l'inverno successivo. Come le formichine, facciamo la scorta. Allora, io andrei ad aprire prima il Kit Kat, visto che è davanti. Vado a togliere questa carta, che abbiamo già ampiamente letto. E quindi abbiamo visto prima che è una novità, che ci sono dei croccanti pezzetti di wafer nel guscio, e senza glutine, è nero questo, mentre quell'altro è bianco. E come dicevo prima, qua pesa 219 grammi più 11 grammi banni, quindi credo che ci sia banni all'interno, vabbè, più uguale 230 grammi. Adesso voglio vedere però se oltre a banni, immagino, spero sia tipo un giondolo o qualcosa del genere. Allora, vado ad aprire l'uovo. Ah, meno male, io non ho portato le forbici. Hanno tutte e due il laccetto, quindi apertura facilitata. Allora, non abbiamo letto se è al latte o invece è fondente. Boh, vabbè, comunque speriamo sia sano. E sano. Adesso il corpo di karate qua sarà particolare. Allora, il porta uova c'è sempre, ovviamente. Cioè può mancare il porta uova, secondo voi? Non penso proprio. Allora, eccolo qua. Raga, che ci sia qualcosa oltre al cioccolato, si vede, e sono i pezzetti di wafer. Io andrei a dare un colpo di karate secco. E poi, di volta qualcuno mi dice l'hai scosso. Raga, io a queste domande non so rispondere. Sì, ok, c'è, fa rumore. Spero non ci sia il porta surprise troppo plastica ogni volta. No, sta carta è fastidiosa. Allora, vado col colpo di karate. Uno, due, tre. Tre? Ok, diciamo che c'è il porta surprise rosso. No, raga, è buono. No, vabbè. Questo ovviamente con queste dolci non si possono fare. Ovviamente adesso non lo sai aprire. Perché quando ci sono nocciole, o ci sono, scusate, o come in questo caso ho mai visto. Allora, i wafer si sentono. Forse c'è un po' di torciastro? Aspettate, lo dico subito. È buono, raga. Allora, avete presente dei wafer? Sono nella cioccolata. Però mi sembra un po' un dolciastro per i miei gusti. Raga, è incollata. Ok, ma si sbriciola. Perché? Ok, è andato. Molto zucchero. Cioè, molto, vabbè. Cioè, è molto zuccherata con i wafer. Non so se... Boh, anche quello bianco sarà la stessa cosa. No! Allora, io l'avevo letto, però non pensavo solo lui, no? Vabbè, è una delusione, raga. La sorpresa è questa. È il Kit Kat e Bunny. Quindi, probabilmente, è quello che mi hanno già regalato. Quindi assaggerò questo e saprò come saranno questi quando li aprirò, perché scadono nel 2024. Allora, la sorpresa è una delusione. Immagino ci sia solo questa sorpresa, perché era spoilerata all'esterno, ma io pensavo che oltre... Scusate. Oltre a questo c'era anche qualcos'altro, perché non ha senso trovare... Cioè, scriverlo e trovare questo, perché nessuno lo acquisterà. A parte, magari, la curiosità di provare questa cioccolata. Ok. Allora, non si parla con la bocca piena. Adesso andiamo ad aprire il secondo. Quindi, questa volta siamo in presenza di cioccolato bianco, sempre della Nestlé. Quindi, il classico Galak. Quindi, le sorprese sono di Plouffe. Chi è Plouffe, non lo so. È lui, forse. Io ancora mangio. È senza glutine. Abbiamo detto prima il peso. 230 grammi. Non ci danno un'altra grammatura, quindi... Vabbè, andiamo ad aprirlo. Carino sto coso del lato, comunque. Allora, speriamo che questo colpo dei karate se lo faccia dare, senza fare molte storie. Speriamo che sia intero, intanto. È integro, vabbè. Raga, lì si vedevano, ma qua, vabbè, sembra strano. Ovviamente, il porta uova non può mancare. Allora, raga, l'uovo ha veramente... Cioè, ma i pezzi di vapor qua sono proprio... Cioè, i pezzi di vapor sono cioccolatosi e neri. Questo non fa rumore. Allora, vado a dare il colpo di karate, sperando che riesca. Uno, due. No, scusate, perché... So che mi farò male. Uno, due e tre. No, non mi sono fatta male, raga. C'è una... Ecco, c'è una... C'è la porta surprise. Potevate mettere subito surprise? Vi dico com'è il cioccolato bianco. Com'è il raffer. Il sorpreso è leggerissimo. Gratisco molto di più questo. Molto meno dolciastro dell'altro. Però, devo dire che i wafer, i wafer, apportano appunto ulteriore dolciume al cioccolato, alla cioccolata. Questo lo gradisco di più. Ok. Credo che possa bastare giù, se non mangiare più. Allora, la surprise è contenuta in questo... Che carina, la colorazione. Vabbè, io che mi entusiasmo per le colorazioni, ovviamente, è tipico di chi spacchetta prodotti beauty. Vamos. Allora, il cioccolato è buono. L'anno scorso c'era questa surprise. C'è il gioco domino per bambini, della Galac. Ovviamente non so se è uguale a quello dello scorso anno. Sicuramente le surprise mi hanno deluso. Trovo che, fondamentalmente, questo c'era già lo scorso anno, potevano cambiare. Sono anche in ordine? No, non sono in ordine. Ah, che bello! Scusate, ma sono tutti uguali? No. Ok. Questa è la surprise dell'uovo di Pasqua, della Galac, nella versione wafer. Allora, raga, le surprise a me non mi hanno entusiasmato. Vabbè, questa è da bambini, quindi, ok, ci può stare. Trovare banni nel Kit Kat? No, perché altra cioccolata, secondo me, anche basta. Come la cioccolata? Penso che la cioccolata col wafer acquisti più dolciuma, cioè molto più dolciastra rispetto a quella normale. Che sia buona, soprattutto questa, questa bianca, è buona. Questa bianca è molto più buona dell'altra. È molto meno dolciastra dell'altra. Ok. Abbiamo provato anche questa. Io vi ringrazio, vi saluto, vi mando un bacio, un abbraccio. A presto, ciao. Ciao, ciao. 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 Ciao.